Salve, sono Andrea Mato, un membro dell'Associazione Oltre Mariano e oggi, nell'ambito della rassegna Un Boccale di Sofia, insieme con altri amici, vorrei proporvi un titolo, un libro da leggere in questi giorni di semi-lockdown che ci costringe a rimanere più tempo chiusi in casa Il libro che oggi voglio proporvi è questo, si intitola Vicaria, un'educazione napoletana scritta da un autore napoletano, Vladimiro Bottone Si tratta di un romanzo, di un autore che non è nuovo a questo tipo di scrittura una scrittura non solo avvincente per il ritmo della trama ma soprattutto una scrittura avvincente perché si fa scrittura reportage per scoprire e conoscere meglio fino in fondo la Napoli di tanto tempo fa La Napoli in questione è la Napoli della prima metà dell'Ottocento è sì un romanzo noir ma è allo stesso tempo anche un romanzo storico quello di Vladimiro Bottone, ambientato nel 1841 ha come location principale il cosiddetto Serraio il reale albergo dei poveri un'opera mastodontica nata sotto Carlo III di Borbone con l'ambizione di risanare le sette piaghe della città ma finì col diventare anch'essa una piaga e quindi l'ottava piaga di Napoli Reclusorio di vecchi inabili, ospizio per donne abbandonate e per l'infanzia perduta viene chiamata dai napoletani il Serraio il Serraio perché è un luogo da cui difficilmente poi potevi uscire indenne vivo ed è quello che purtroppo capita al protagonista della storia il protagonista della storia si chiama Antimo un bambino di sette anni che, come dice l'autore vittima di un peccato che grida vendetta al Signore la pedofilia cerca di fuggire lo fa nel modo più rocambolesco possibile nascosto in una cesta di vimini sotto un mucchio di paglia usata e lenzuole sporche Antimo è sul punto di guadagnare l'uscita dal Serraio ma, insomma, va incontro a una fine tutt'altro che felice Fiorilli, altro protagonista importante del romanzo Gioacchino Fiorilli è un giovane commissario della Vicaria la Vicaria è uno dei quartieri ancora oggi più disagiati della città di Napoli più malfamati della città di Napoli comunque Fiorilli viene incaricato a indagare sulla storia della scomparsa del piccolo Antimo viene incaricato delle indagini sul caso il tizio, il commissario viene descritto come una persona di bell'aspetto un uomo dai baffi curati, dalla divisa elegante, dice Bottone deve però fare i conti con un ginepraio di corruzione di corruzioni, di corruttori, di corrotti, tramedici, impiegati, funzionari di Stato che senza scrupoli cercano in tutto e per tutto di, diciamo, ostacolare le indagini in un narrato che è quello della Napoli di inizio ottocento in cui sudiciume, sporco, fisico e morale diciamo diventano la cifra contro cui il protagonista, Giochino Fiorilli deve combattere si tratta veramente di un romanzo affresco perché non è avvincente esclusivamente per la trama e per il ritmo con cui questa trama è condotta ma è curioso soprattutto come romanzo perché mette a fuoco la capacità di questo scrittore di essere storico e potremmo dire addirittura antropologo nel mentre affonda nel ventre di Napoli il coltello, per così dire, della sua competenza descrittiva lo consiglio quindi vivamente